Carpi-Pescara 0-0. A dire il vero nel primo tempo il Carpi ha avuto le sue belle palle gol con Fiorillo che si è opposto a Marsura, un giocatore che ha creato molti problemi al Pescara nel primo tempo. Anche Cisse dopo un intervento di Del Grosso ha calciato al lato da ottima posizione, di là invece Sottil prima ha esaltato Piscitelli, poi quando doveva andare a concludere imbeccato in verticale da Brugman ha cercato il gesto di altruismo per Mancuso ma lì doveva concludere in porta. Nel secondo tempo è partito forte il Carpi, nell'unica forza incertezza di un bellissimo Bettella è andato in porta il Carpi ma la conclusione da ottima posizione è terminata di un soffio al lato, poi nella mezz'ora finale lo show del Pescara. Tante opportunità, la più nitida sponda di Bellini per l'inserimento di Brugman, pennellata del capitano Biancazzurro, Bellini da 0-0 a porta vuota ha clamorosamente alzato la mira. Poi la conclusione a botta sicura di Sottil, miracolo di Piscitelli, palla sulla traversa in precedenza sugli sviluppi di un corner di Sottil, a colpo sicuro Crecco, salvataggio di Sabbione sulla linea a tempo scaduto, numero di Capone sull'out di sinistra, cross bello, basso, invitante, un cioccolatino che Sottil non è riuscito a scartare per un attimo a porta vuota. è arrivato con un attimo di ritardo, bisogna per dovere di cronaca dire anche di un super intervento in anticipo di Perrotta-Suvano quando il Pescara era sbilanciato. Finale Carpi 0, Pescara 0.